Amici di Auto Occasioni ben ritrovati, come sempre per voi le migliori proposte commerciali delle migliori concessionarie e oggi non a caso siamo ospiti di una delle grandi concessionarie del gruppo Auto Ingros precisamente ospiti della concessionaria alternativa, concessionaria Renault e Dacia in compagnia di Paolo Rosbach che oggi ho il piacere di conoscere e di incontrare, ciao! Benvenuta Palma per la prima volta qui da noi e benvenuti a tutti quanti voi! La concessionaria alternativa è ubicata in una posizione tattica tra Piemonte e Lombardia precisamente in Corso Vercelli 115, possiamo definire la concessionaria alternativa sia di nome che di fatto perché cerca sempre di trovare delle soluzioni per la clientela, soluzioni ottimali all'avanguardia con i tempi per esempio parliamo del modo di comunicare, solo da alternativa potete richiedere tutte le informazioni anche tramite Whatsapp Assolutamente, Whatsapp sempre attivo 24 ore su 24 al 335 49 7716 richiedeteci informazioni, foto e video delle vetture che visionate E poi abbiamo anche l'alternativa nei pagamenti, ricordiamo che solo presso il gruppo Auto Ingros e quindi anche presso la concessionaria alternativa è attivo il metodo Happy Drive una soluzione di pagamento eccezionale con tantissimi vantaggi Corretto Palma, in poche parole, aprendo una formula Happy Drive qui da noi avete oltre a un prezzo che è scontato in base alla rotamazione, non rotamazione, permuta o non permuta due taglianti omaggio, otto anni di garanzia, RC omaggio per sei mesi, l'infortunio conducente omaggio la protezione sul credito compresa nella rata e soprattutto una supervalutazione di 1000 euro al ritiro del vostro usato fra 5 anni, questa qui, questa formula permette di avere un costo 0 5 anni Vi posso assicurare che non sono solo parole, provare per credere quindi recatevi presso la concessionaria alternativa per richiedere maggiori dettagli Ora entriamo nel vivo della puntata, parliamo delle vere e proprie protagoniste qui è presente l'intera gamma Renault e Dacia, nonché le chilometri zero le aziendali, una divisione aziende che poi andremo a scoprire nel dettaglio e anche l'usato, non solo usato Renault e Dacia ma anche multimarca Assolutamente, veniteci a trovare 40 vetture in pronta consegna solo nell'usato Ora Paolo, io direi di andare a scoprire proprio da vicino le protagoniste della puntata, state con noi Tutta la gamma Clio in pronta consegna la proponiamo sempre con formula Happy Drive con anticipo zero, rate da 160 euro al mese Renault Captur lo proponiamo con Happy Drive da 242 euro al mese importantissimo anche con versione cambio automatico, doppia frizione EDC, eccezionale Dacia Dacer viene proposto a tutti i clienti che finanziano a 11.000 euro qui lo proponiamo con formula Happy Drive a 217 euro al mese Qui d'alternativa l'intera gamma di vetture, di veicoli commerciali Renault e Dacia sono in pronta consegna, vi proponiamo qua un Renault Kangoo Express 1.500 DCI 90 cavalli e un chilometro zero, lo proponiamo a 11.390 euro più IVA oppure anche qui formula Happy Drive, 202 euro al mese con anticipo zero Renault Trafic 1.6 DCI 140 cavalli L1 H1, quindi misura standard, lo proponiamo a chilometri zero a 15.490 euro più IVA, oppure con formula Happy Drive sempre anticipo zero a 272 euro al mese più IVA Passiamo adesso a un Renault Master, questo è un Maxi, quindi lunghezza L3 H2 con sospensioni pneumatiche, interessantissimo, lo proponiamo a 21.800 euro più IVA o sempre con formula Happy Drive a 373 euro al mese più IVA con anticipo zero Qui d'alternativa anche vetture, veicoli commerciali più particolari qui vediamo un ribaltabile trilaterale con trazione posteriore Veniteci a trovare per il prezzo Molte vetture a chilometri zero qui da noi Partiamo da una Megane Sport Tour 1.5 DCI allestimento limited 95 cavalli la proponiamo a 16.600 euro Anche sulle vetture a chilometro zero possiamo fare la formula Happy Drive con anticipo zero erate da 293 euro al mese Proseguiamo con una bellissima Laguna 2.000 DCI allestimento limited che proponiamo, attenzione, a 23.900 euro Anche qui formula Happy Drive si può applicare tranquillamente Un vastissimo parco di vetture e veicoli commerciali ma anche un servizio impeccabile per quanto riguarda le aziende Alternativa, attenzione, viene a casa vostra Esattamente, ci troviamo vicino al nuovissimo Espas Vettura eccezionale, stupenda, dedicata alle famiglie ma anche alle aziende Siamo a fine anno quindi noi veniamo a trovarvi con le nostre vetture i nostri veicoli commerciali per farvi vedere e provare direttamente nella vostra azienda, contattateci Molte vetture nell'usato, usato garantito Selection Partiamo da una Fiat 500 L Living Allestimento Popstar, pensate 26.000 km percorsi del 2013 La proponiamo a 14.900 euro Torniamo in casa Renault con un bellissimo Renault Captur 1.500 DCI allestimento live con navigatore Climatizzatore Cerchi in Lega del febbraio del 2015 Quindi vettura freschissima, la proponiamo a 15.900 euro Una Toyota Urban Cruiser allestimento luxury, questa vettura un 4x4 1.400 diesel del 2012, ha percorso 78.000 km La proponiamo a 13.900 euro Continuiamo con la gamma Renault, vediamo qua una Clio 1.200 a 10.150 euro Anche qua possiamo applicare l'epidrive, la vettura a 10.000 km 190 euro al mese con anticipo zero Oppure la stessa vettura però con motorizzazione 1.500 DCI La proponiamo con epidrive a 207 euro al mese con anticipo zero Un bellissimo Dacia Duster, ne abbiamo diversi Sono tutte vetture aziendali del 2015 La proponiamo a 13.900 euro più Voltura Alternativa, concessionaria Renault e Dacia, la concessionaria che ama differenziarsi Non solo obiettivo la vendita ma soprattutto i servizi Quello di fornire sempre il massimo della soddisfazione su tutti i fronti Parliamo per esempio del prodotto Epidrive che vi consentirà di acquistare le migliori condizioni di mercato Assolutamente, veniteci a trovare così ve lo spieghiamo bene e in modo preciso E allora se volete informazioni, non avete solo il metodo classico della telefonata ma anche Whatsapp Esatto, Whatsapp per ricevere le fotografie, i video delle vetture che avete visto o di altre che ci chiederete Il numero è 335 49 77 16 Come vi avevo detto è anticipato in apertura, alternativa di nome e di fatto sempre disponibile per voi Ricordiamo che per tutto il mese di novembre è sempre aperto Sempre aperto e tutte le domeniche vi aspettiamo numerosi E allora Paolo ricordiamo ancora l'indirizzo? Corso Vercelli 115 ad Ivrea, 30 minuti da Torino, 45 minuti da Milano Grazie Paolo, gentilissimo, ringrazio lo staff della concessionaria alternativa Ringrazio voi per averci seguito e se avete piacere scaricate l'app gratuita di Motori TV Per rimanere sempre aggiornati sui vostri concessionari di fiducia Alla prossima